sei di parma se la tua macchina guai a chi te la tocca se per te il massimo è una due ruote motrici se la torta è quella fritta sei di parma se l'ospite viene prima di tutto sei di parma se sei dolce e genuino se la tavola è il tuo regno e tu sei il re il re dei prosciutti solo carne italiana niente conservanti dolce e naturale prosciutto di parma non è crudo è di parma grazie